Vedete che un giorno e un grande, sono qui dopo qualche giorno a presiedere la bella di Paggia, la memoria per la viata Vergine Maria di Immacolata. D'accordo, io qui, nella notte di oggi, si pensate, sono poco propie intitolate all'immacolata. Ma forse la più storica è proprio questa, quella di San Bernardino, che venne da proprio di Immacolata, Immacolata la mamma di Gesù e la mamma di Gesù. Ci vogliamo preparare alla festa di Immacolata come la più bella preparazione anche a quella di San Bernardino. Ecco il cuore che proprio in questi giorni noi guardassimo a questo bel esempio di fede, di amore per il Signore e di amore per il Signore prossimo che è stata Maria. Maria, la donna dell'ascolto, di un ascolto fecondo, generoso e non semplicemente sterile. Quante parole noi ascoltiamo in una giornata, quanti discorsi, spesso a scuola o no? sentiamo tanti che discorsi, ma poche parole forse rimangono nel cuore. e perché noi possiamo dare valore alla nostra vita? Non c'è bisogno di ascoltare tanti e lunghi discorsi. A volte basta anche una parola per cambiare la vita, per cambiare l'atteggiamento, per dare un colpo che lo dava alla nostra esistenza che tenta tante volte di essere un po' come un aereo che, perdendo vuota, si scanta al suono. La fede è un colpo di Dio, ma nello stesso tempo è anche una ricerca, è anche una ricerca da parte nostra. E' bellissimo il versetto che noi abbiamo ascoltato che riporta questa esotenzione del proprio interesse a Dio. Cercatevi, cercatevi, mentre si fa provare, invocatelo, mentre è vicino, bellissimo, cercatevi. Grazie. Poi, per favore, una domanda. Vi siete mai tassi? Tante volte, eh? E' bellissima. E' mamma cosa che ho fatto? C'era di casa? Vedete uno invece da dare... eh? Veramente, non accorgati. Stati accordi le proprietà, se ti sei per cui ci sei per cui ti sei per cui ci sei per cui questo è questo è il suo interesse. E chi ci ha approfitto? Chi ci ha approfitto? Chi ci ha approfitto? Vieni. Ecco. Prendiamoci verso? All'accordo, è... Adaccordo, è... D'accordo, è una sede, un'attempo di domenica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.